Amici miei, e non dell'avventura, e dell'avventura, l'avventura, Gualtieri, vedete, San Bernardino, Novellare, Gualtieri da questa parte, e potevo andare a Villa Seta, a Villa Argine, ho sperato che ci fosse un forno, un bar, siamo già, Santa Vittoria di Gualtieri, San Bernardino da una parte, Nuvaleira da Cletri, dalla stessa, adesso c'è un bel Gualtieri, magari qua in provincia le attività al pubblico, aprono dopo, questo è il bar qua, ma è ancora chiuso, tutto chiuso, un forno, ecco, questo è un posto bellissimo, deve essere la Rocca, Policipio, lo so, questa è la chiesa, qui merita, potremmo andare dentro, la radio, la radio, la radio, eccoli là, guardate là, era una macchina dei carabiniere, viniere, viniere, viniere blues, gli schiantos, non mi risulta che siano stati denunciati, Mantova, Guastalla, Gualtieri, Poviglio e Meletole, ecco, a Poviglio è tanto che non passiamo, da Poviglio, eh vabbè, abbiamo avuto una cattiva idea, eh, una cattiva, andiamo a Santa Vittoria, andiamo a Poviglio, speriamo bene, Meletole, Meletole, Podiglio, Fodigo, Fodigo, la radio, la radio, via le volontariate, ma potremmo raccontare da fuori la discoteca, ma che no, siamo stati, non il Mad Black, non il Black Devil, si chiama, non il 101 di Gualtieri, non il Tempo, ricordo come si chiama la discoteca, ecco, oh, finalmente, finally, oh, c'è anche un buon, oh, Monsignora, Monsignora, dì, a me, 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 tu, me, me, devo andare a Monticelli, dal macellaio, sì, sì, devo andare dal Mastare, da Luca Ferrari, no, a me i comici che non accettano di essere ripresi, veramente, mi fanno impazzire, mi fanno impazzire, stasera signora, signora con cui, signora con cui avevo impattato male, perché ha subito dei furti, ha subito qualcosa, chissà, andiamo a vedere, ok,